ma buongiorno buongiorno eccomi cosa qui è freddo sapete perché scalogno olio extravergine d'oliva dato un paio di giratini leggeri e belli puliti tagliati sistemati cavoletti di bruxa perché li ho messi a freddo vediamo se qualcuno è preparato che ve lo dico sempre perché sono così piccoli e lo scalogno così delicato che voglio che prendano la stessa cottura gradualmente a fiamma molto con la piccolina deca secola deboli deboli dolci dolci poi la solita frittatina di spaghetti al pomodoro e parmigiano della Chiavi bella pronta perché dovete sapere ieri sera abbiamo fatto un bel sugo con i pelati e bemmo buonissimo però è avanzato un bel peccato e non si butta mai niente ma c'è una sorpresa oggi per una canolata pelosa cosa c'è questo? questo è il mio collo e il mio frutto hamburger biscottona è perché non c'era il filetto o la lonza filetti ma è uguale tanto è solo la carne tritata faccio meno fatica con carote lessato perché in foglio è festa anche per lei siamo ancora sotto le feste quindi ci vediamo fra poco che vi faccio vedere come cuocerò come Chiavi cuocerà i suoi cavoletti di Bruxelles a freddo ciao dopo due piccole girefine di buonissimo vino bianco ferro fate salire la fase alcolica dopodiché salate, pepate e tutti a carne ciao ecco quando iniziano a sfogliarsi lasciate il cuoricino un po' più crocantello se spegnete siamo pronti salio l'ho messo un pizzicino di pepe bianco proprio poco poco l'ho messo poi per i più grandi ma anche per il peccino abbastanza grande se non vi piace i granelli di pepe bianco buon pranzo a tutti e anche per la nostra fabbrica buon appetito a tutti bella gente ci vediamo presto ciao facciamo in aria grazie a tutti